Ben ritrovati a tutti a Medex News. Quanto è importante la sicurezza nei luoghi di lavoro? Decisamente moltissimo, considerato purtroppo i dati che ancora si continuano a registrare di lavoratori che perdono la vita, altri ovviamente che si feriscono in maniera grave e non solo. Cosa quindi bisogna fare per cercare di ottimizzare tutto questo? Bene, le ASPE e anche l'ASPE di Catania ha realizzato un progetto che punta a aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari e sociosanitari in modo da sviluppare programmi di prevenzione finalizzati alla promozione di stili di vita, che è fondamentale, e alla prevenzione, come detto, anche dei fattori di rischio compartimentali su quelli che sono appunto tutto ciò che ruota attorno al mondo del lavoro. Noi oggi ne parliamo oggi qui in diretta e in trasmissione con noi, con il dottor Salvatore Cacciola. Grazie di essere nuovamente qui con noi, dottore, dell'ASPE di Catania. E poi abbiamo Claudia Cardillo, educatore professionale. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. E allora, dottore Cacciola, come ASPE avete organizzato questo bel focus che è stato seguito sia in presenza ma anche in streaming da tantissime persone. Noi oggi cercheremo appunto qui a Medex di fare il punto della situazione. Un bilancio positivo che verte appunto, grazie a questo progetto CCM 2018, azioni centrali, di dare davvero un supporto fondamentale a tutto quello che è l'implementazione in realtà regionali italiane sulla sicurezza nei posti di lavoro. Sì, proprio il nostro programma è centrato sulla promozione della salute, è bene precisarlo perché poi della sicurezza se ne occupa il Dipartimento di Prevenzione. Che significa? Significa che gli operatori dell'azienda sanitaria, i lavoratori delle varie aziende pubbliche e private hanno il diritto di avere anche nel loro posto di lavoro una serie di opportunità per cambiare i loro stili di vita, per orientarli verso uno stile di vita salutare. Questo programma è un programma che è da anni che si sperimenta dal 2014 nella regione Lombardia e anche in altri paesi europei. e con un programma CCM che ha coinvolto la regione Lombardia come Capofila, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e l'Asp di Catania abbiamo concretamente sperimentato e lo faremo anche nei prossimi anni delle pratiche ovviamente con l'evidenza scientifica che ci consentono di consigliare quali sono le strategie migliori per promuovere salute. facciamo degli esempi concreti per rintenderci che significa modificare l'offerta di cibo nelle menze aziendali che significa ridurre per esempio una percentuale di sale nel pane o nei condimenti che significa promuovere attività fisica anche per i dipendenti oppure il contrasto al tabaggismo piuttosto che all'alcol o alle altre droghe. Si tratta di offrire percorsi concreti che sono tutti orientati per il benessere delle persone. Nella nostra azienda sanitaria, così come nell'altra regione, sono stati scelte dei target. Per esempio nella nostra azienda abbiamo scelto due target. Uno che sono i dipendenti dei nostri sei ospedali e le iniziative che faremo saranno tutte concentrate dentro i nostri ospedali. Un esempio concreto è promuovere l'uso delle scale anziché dell'ascensore. Se uno fa attività di movimento usando le scale, promuove la sua salute, così come le attività di gruppi di cammino, di ginnastica dolce, anche in luoghi dedicate nelle strutture ospedaliere. L'altro pezzo di cui parlerà la dottoressa Cardillo riguarda le piccole e medie aziende agricole che fanno agricoltura sociale. Ecco, noi stiamo vedendo dottore un po' una sintesi dettagliata del progetto che voi avete presentato come lei ben descritto all'interno di questo focus che ha ben detto lei è stato in sinergia appunto anche con altre ASP, non solo quelle siciliano. Perché il problema appunto della sicurezza del posto di lavoro è una tematica che purtroppo è molto sentita a livello nazionale perché continua purtroppo a dare un numero di morti non indifferenti. Lì poi ci sono come le sa benissimo anche le funzioni ispettive che fa il servizio che si occupa proprio della sicurezza del posto di lavoro. Il nostro è più un programma propositivo, attivo e propositivo, dentro un'ottica che è stata descritta in una di queste slide che abbiamo già passato che è quella che c'è un unico approccio nel corso della vita, non c'è il tempo del lavoro, quello dell'istruzione, quello del tempo libero. Allora noi pensiamo di utilizzare proprio quest'approccio basato sull'intero arco della vita indipendente dall'età, dal genere, dalla professione. Cioè la salute deve essere promossa sempre e dovunque, in questo caso nei luoghi di lavoro. E appunto rivedere con lei dottore, se me lo permette poi passerò ovviamente a parlare di quello che è la funzione delle fattorie solidali. Vorrei rivedere insieme le slide, io credo alla regina di rimandarle, anche perché qui insomma è il focus, il tema principale dell'incontro che voi avete realizzato. Ecco, è come diceva lei un approccio basato su tutto l'intero arco della vita, quindi aumentare l'efficacia degli interventi durante tutta la vita di una persona, perché ovviamente le problematiche ci sono in gravidanza, ci sono quando sei piccoli, quando sei grandi, quando sei più adulti, e soprattutto poi in tutto, quindi nelle città, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari, no? Sì, sì, è tutto questo. Sì, è tutto questo. Questo è uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU nell'agenda 20-30. Sì, questo è questa grafica, ormai è passata ormai come la grafica dei cosiddetti goal per i risultati, gli obiettivi da raggiungere, così come vengono stabiliti e definiti dall'OMS, dall'ONU e quindi anche dall'OMS. Proprio il benessere della comunità, il benessere soggettivo non è qualcosa che bisogna attendere passivamente, ma bisogna orientarsi e essere, come dire, protagonista di questa nostra promozione della salute. Facciamo l'esempio proprio dell'attività fisica, non per forza ovviamente deve essere un'attività agonistica oppure organizzata in una palestra, ma basterebbe la possibilità di movimento a partire dalle scale, per esempio, a partire da una mobilità sostenibile utilizzando, per esempio, la bicicletta, non strumenti che poi di fatto non ti fanno muovere, ma mezzi di trasporto che siano effettivamente sostenibili e che promuovano il movimento. Tante piccole cose, ovviamente studiate e misurate nella loro efficacia, che orientano in un'altra direzione il ruolo dei servizi sanitari. Noi non dobbiamo soltanto aspettare che uno sia male. Lavoriamo perché quando uno ancora è in buona salute o comunque può fare delle attività, mantenga la salute e magari la migliore. Ecco, sembra incredibile che ancora noi nel 2021 dobbiamo, insomma, sottolineare l'importanza dell'obbio, no? Quindi quello dell'importanza dello sport, della sicurezza dei luoghi di lavoro, però purtroppo quelli che sono obiettivi che sembrano scontati, cioè quelli dell'agenda 2030 messi in atto dall'ONU, in realtà non sono così ancora di, insomma, così fattivi in tante realtà, no? Basta pensare agli spazi che ci sono nelle scuole. Ci sono pochissimi spazi per fare attiva sportiva. Noi abbiamo previsto come azienda addirittura delle attività che possono essere svolte anche in aula, ma è evidente che la Sicilia è ancora al quarto posto per testo di obesità infantile, oltre che per un'alimentazione ancora non equilibrata, c'è certamente il tema della carenza di impianti e di offerte di attività sportiva che incidono presentemente anche tra le giovani generazioni. Andiamo a vedere la differenza tra il centro nord e il sud e le isole è provato dalla carenza di strutture sportive. Noi ovviamente non ci possiamo fare carico di tutto, però per esempio già avviare dei piedibus, per andare a piedi dove è possibile, dalla casa a scuola, ovviamente con la sicurezza necessaria, o i bici bus, che tanto è associazione di volontariato, che so come di promuovere l'uso della bicicletta. Ci sono tante piccole cose che sembrano banali, ma che possono aiutare, ovviamente in un contesto che non sembra così favorito e così ricco di opportunità. Ecco, noi dobbiamo cercare di sfatare un po' di miti, noi siamo quelli che dobbiamo passeggiare sotto il posto dove andiamo, quindi figuriamoci se abbiamo il concetto di bicicletta, o di spostamento. Anzi, le tifo a quattro a quattro a fila noi dobbiamo scendere esattamente nel punto in cui dobbiamo andare, quindi figuriamoci, i figli andare a piedi non sia mai, non sia mai, perché in quel caso sono figli abbandonati, cioè i genitori non li amano, perché i figli devono andare a piedi. Abbiamo tutto una cosa al contrario. Allora, Claudia Cardillo, cerchiamo di far capire anche ai nostri amici a casa cosa sono le fattorie solidarie? Allora, le fattorie sociali sono delle aziende agricole che hanno deciso di occuparsi anche dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e quindi all'interno della propria azienda ospitano soggetti che hanno dei disagi, delle difficoltà economiche, dei problemi legati ad altri disturbi e quindi le fattorie sociali sono già un luogo che promuove benessere, promuove benessere però è importante averli inseriti in questo percorso, in questo programma, ci tengo a ribadire l'importanza del termine programma e non progetto, quindi l'ASPE di Catania non farà una cosa che ha un inizio e una fine come spesso sono i progetti, ma è appunto un programma che sarà sviluppato nel corso degli anni. Abbiamo fatto un po' un punto della situazione su quelli che sono gli aspetti di forza delle fattorie sociali come luogo che promuovono benessere e soprattutto la possibilità di valorizzare il prezioso capitale umano presente nelle aziende. Nelle slide che abbiamo visto prima c'era una foto con un pesciolino fuori dalla bolla con il gattino dentro l'acqua e quindi cambiare e avere una diversa prospettiva, quindi da quali sono le cause della malattia e come si possono prevenire, a quali sono invece le fondi della salute, come si crea e come può essere rinforzata. E' proprio questo penso il nucleo principale di questo programma. E quindi insieme alle aziende agricole che ovviamente sono all'interno del distretto dell'ASPE di Catania stiamo sviluppando questo programma, è stato somministrato loro un questionario e via via nel corso di questi mesi svilupperemo un po' quelli che sono i temi che possono servire a rafforzare e aumentare il benessere in questi luoghi di lavoro. Senti Claudia, quali sono secondo te i punti di debolezza all'interno del sistema e anche delle fattorie sociali? Quando riguarda questo programma? Certo, certo, certo. I punti di debolezza all'interno del sistema ovviamente considerate che questo programma è partito nella regione Lombardia per mega e galattiche imprese quindi diciamo era stato anche sviluppato per una gestione di personale differente rispetto a quelle che sono le aziende agricole che hanno ovviamente due, tre dipendenti spesso a conduzione familiare. Però come è stato ribadito anche ieri nel corso della formazione che è stata appunto tenuta presso l'OEPSA di Catania abbiamo capito come spesso ovviamente diciamo i cambiamenti avvengono spesso e sempre anche dal basso quindi le piccole imprese agricole in questo specifico progetto non hanno un lato negativo in quanto piccole aziende ma forse essendo piccole riusciamo meglio a sviluppare alcuni punti importanti di questo programma quindi diciamo che l'aspetto negativo si ripercuote in maniera positiva strutturando delle strategie che ovviamente possono servire facciamo degli esempi pratici per non tediare anche gli aspettatori se per esempio siamo in una fattoria sociale e c'è una scolaresta che va a fare visite didattiche dice come facciamo calare questo progetto? Lo possiamo fare calare perché all'interno delle fattorie sociali spesso si offre ai visitatori una merenda quindi cominciare con la sana alimentazione una merenda con diciamo dei prodotti della fattoria stessa e iniziare a far passare il concetto della merenda sana nei bambini poi con gli insegnanti si fa un percorso per cui quel tipo di merenda che è stata degustata si pensa di farla inserire proprio nel menù settimanale dei bambini che portano insomma a scuola quel tipo di merenda per fare un esempio il pane fatto con il lievito madre i grani antichi siciliani e l'olio di oliva è una giusta merenda che può essere utilizzata ma che spesso per comodità non viene utilizzata e si preferiscono magari delle brioscine che diciamo non fanno molto bene alla salute quindi cominciare e sviluppare proprio la multifunzionalità dell'azienda agricola e permettere in tutte le linee di intervento della fattoria di inserire questo programma con degli obiettivi ben strutturati e anche valutabili a distanza di tempo poi tra l'altro credo che i bambini insomma quando vengono a mangiare il pane bello caldo con l'olio e il sale secondo me ne sono ben contenti dovrebbero è che non sono abituati perché appunto come hai detto bene tu le famiglie vanno ormai molto alla funzionalità della praticità quindi dare una brioscina confezionata piuttosto che anche tagliare una fettina di pane diventa purtroppo a volte più funzionale non comprendendo tutti i danni che invece ci sono dietro ovviamente adotteremo anche una mediazione una concertazione perché le cose imposte dall'alto ovviamente non servono anche per esempio l'importanza di ridurre pian piano il consumo del sale e quindi offrire la possibilità e questo verrà sviluppato nelle menze ospedaliere di avere anche la possibilità di utilizzare del pane senza sale per proprio entrare in questa cultura e quindi non attraverso l'imposizione ma attraverso una scelta tu hai la possibilità di scegliere poi puoi anche mangiare il pane senza sale e valutare che questo potrebbe avere un impatto positivo anche sulla tua salute Claudia vorrei facciamo finta che noi siamo tutti quanti ospiti di una fattoria sociale quindi noi e tutti i telespettatori di Medex News ecco quali sono i consigli che ovviamente date a chi viene a trovarvi e quindi in questo caso possiamo estendere a tutti i nostri telespettatori siciliani allora sicuramente in primo punto c'è la biodiversità e quindi il rispetto di questa biodiversità che non è solo legata alle piante ma è anche legata alle persone e quindi il rispetto sostanzialmente di tutti venendo in una fattoria sociale si vive pienamente di quelle che sono le attività dell'azienda e si vive insieme a dei ragazzi in particolare io ho l'esperienza di ragazzi autistici meravigliosi impegnati nella trasformazione della farina in scusi dei semi di canapa per uso alimentare in farina e olio oppure nell'estrazione della pappa reale ai prodotti del miele quando un visitatore viene lì e vede anche l'importanza e la valorizzazione di questi ragazzi e come loro sono in grado di svolgere un'attività lavorativa e sono capitale umano importante non sono più considerati degli assistenti diciamo comunque delle persone che vengono assistite dal sistema sanitario l'ottica è completamente diversa è quella che ognuno di noi ha delle possibilità all'interno di un contesto agricolo ovviamente sono facilitate queste relazioni e quindi i ragazzi riescono a collocarsi nella gestione dell'impresa agricola e a essere veramente dei grandi lavoratori ecco questo è molto importante dottore Cacciola abbiamo anche parlato della possibilità di inserire all'interno delle delle fattorie sociali anche dei giovani che in qualche maniera hanno la necessità di lavorare perché magari in altre strutture non trovano facilmente posto a causa magari di loro piccole problematiche certamente e comunque quello che stiamo dicendo è dentro questo approccio One Health cioè c'è un'unica sanità ed è una sanità che si occupa della prevenzione primaria della prevenzione secondaria della prevenzione terziaria della quindi riabilitazione non c'è non ci devono essere troppi compartimenti stagni ciascuno con la propria specializzazione ma avendo non dimenticandosi non perdendo di vista che stiamo parlando di una persona che è complessa ma è unica è unitaria diciamo allora proprio per questo motivo questi programmi hanno questa capacità e si sono finalizzati a ricomporre frammenti che spesso nei decenni passati sono stati tutti separati One Health un'unica salute per un'unica sanità ecco la cosa importante di questa trasmissione secondo me anche soprattutto del messaggio che voi state lanciando è che quando parliamo di salute nei luoghi di lavoro non intendiamo solamente ovviamente quella che è legata poi al al problema fisico in qualche maniera può creare il respirare insomma delle sostanze nocive sbattere fare delle cose la salute ci sono ancora tantissimi tantissimi decessi anche per per le sostanze per tutto lo stile di vita per quello che in qualche maniera c'è all'interno di un luogo di lavoro che non è solamente se cadi ma è anche una serie di normative che vanno rispettate sì questo è indubbio lo dicevo prima in Italia ci sono diversi enti che si occupano di questo proprio in questi giorni se ne parla c'è un impegno molto importante delle aziende sanitarie noi abbiamo il nostro dipartimento di prevenzione con le sue articolazioni che sono contemporaneamente articolazioni di prevenzione primaria ma anche di controllo di ispezione di sanzione se è necessario cioè è importante appunto che quell'aspetto sia legato e sia consapevole che ce ne sono altri aspetti e sono quelli di cui ci occupiamo noi posso assicurare che c'è una forte integrazione con gli altri servizi facciamo degli esempi in questo programma che stiamo svolgendo e che continueremo a realizzare abbiamo coinvolto il servizio per le tossicodipendenze i servizi ospedalieri e il dipartimento ovviamente di prevenzione perché non ci può essere una strategia se non integrando i servizi sanitari e anche andando oltre perché per esempio se parliamo di promozione della salute e del movimento certamente i comuni le scuole le associazioni sportive cioè è proprio un ricostruire un valorizzare tutte le risorse che abbiamo nel territorio Dottore Caciola io vorrei che la regia rimandasse per favore la slide relativa agli obiettivi in agenda dell'ONU del 2030 questa data che sembrava così lontana ma che si avvicina sempre di più allora voi dovete sapere che ovviamente l'ONU e quindi tutti i paesi che hanno aderito hanno stabilito una sorta insomma di data in cui tutti i paesi si devono adeguare al rispetto dei punti scelti da portare avanti la salute nell'era degli obiettivi di sviluppo sostenibile quindi la qualità della nostra salute assicurare la salute e il benessere a tutti ok a secondo la fascia di età è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU in questo disco che ormai per chi insomma è addetto ai lavori quindi lo facciamo lo comunichiamo anche ai nostri telespettatori si sa ci sono dottore Cacciola questi 17 punti per quanto riguarda la salute da raggiungere che sembrano facili ma in realtà purtroppo non sono così scontati ecco no non lo sono però sono molto importanti perché ci danno un obiettivo anche misurato nel tempo come? dicevo che ci danno degli obiettivi anche misurati nel tempo alcuni magari non si realizzaranno entro il 2030 ma gli stati devono attenersi a questi obiettivi e se ci fate caso alcuni che sembrerebbero solo di natura sociale poi hanno una forte ridondanza nella strategia di salute immaginate il primo povertà zero questo primo obiettivo nei programmi della sanità pubblica si parla sempre di equità e di ridurre le diseguaglianze perché è evidente che c'è una forte diseguaglianza nell'accesso dei servizi a causa dell'istruzione del reddito e i programmi di sanità pubblica sono finalizzati anche a ridurre queste diseguaglianze per esempio e poi il tema dell'ambiente il tema del lavoro e della sostenibilità complessiva le azioni sul clima cioè sono tutti i temi che la sanità non può dire non sono i miei sono temi che condizionano lo stato di benessere della popolazione lo stato di salute in particolare quindi inevitabilmente ci interessano e dobbiamo convergere su questi obiettivi ecco nel cerchio quello che vedete in maniera centrale c'è il punto 3 è appunto quello relativo la salute e il benessere assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età sembra appunto un dato sconsato non lo è è un grande obiettivo nella nostra nazione nella Costituzione questo principio è ambiamente affermato e devo dire noi abbiamo delle grandi direttive proprio la carta costituzionale le leggi della sanità nel nostro Paese che sono tutte coerenti con il terzo obiettivo con il terzo gollo diciamo che prevede la strategia dello sviluppo sostenibile dell'ONU non tutte le nazioni hanno lo stesso tipo di attenzione di sensibilità come quella della nostra carta costituzionale che per noi è stata poi tradotta nelle leggi di riforma nella sanità pubblica per quanto con delle difficoltà ma comunque viene considerata uno dei sistemi sanitari pubblici più avanzati comunque nel mondo malgrado ripeto le differenze le disfunzioni che ovviamente non possiamo non riconoscere ma è veramente per noi un dovere quello di rendere i servizi per tutti e non solamente per chi ha più reddito o chi ha più istruzione ecco i punti tra l'altro che stiamo continuando a vedere inquadrati perché io ci tengo moltissimo che i nostri telespettatori li focalizzino perché non dobbiamo vedere per scontato è anche uno dei motivi per cui Medex News almeno una volta la settimana si dedica ad affrontare delle tematiche che in qualche modo comunque rientrano all'interno dei goal all'interno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile concordati dall'ONU e che tutti i paesi dovrebbero raggiungere entro il 2030 noi spesso lo facciamo per quanto riguarda il punto 15 c'è la vita sulla terra sul punto 13 le azioni per il clima abbiamo cercato più volte insomma di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo abbiamo parlato anche sulla vita sott'acqua il punto 14 c'è tutto quello il rispetto di tutto quello che vediamo nei fondali che purtroppo ormai è sempre più inondato di tutta la spazzatura che ahimè noi sulla terra produciamo per finire appunto a poi quelli che possono essere delle tematiche forse lontane da noi cioè da noi nel mondo c'è ancora tantissima povertà ci sono anche dei paesi in cui c'è fame in cui non c'è cibo in cui non c'è acqua pulita igiene come il punto 1 2 6 ecco in cui ovviamente tutto questo purtroppo succede e poi come si risponde come la conseguenza qual è quella che ovviamente non è facile assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età ecco torniamo in studio perché dottore Cacciole è questo poi il punto tutto quello che ruota nel nostro ambiente e che stiamo purtroppo noi uomini realizzando ahimè sta portando poi a dover metterci le pezze in qualche maniera la crisi pandemica è anche portato il risultato di queste situazioni di disequilibrio di mancanza di un sistema diciamo che che garantisca e tutela l'ambiente che non che non lo deturpi che non lo modifichi a tal punto da produrre nuove nuove salte diciamo dal genere animale agli uomini quindi c'è un problema di crisi ambientale lo vediamo ha delle ripercussioni precise nelle migrazioni nella salute nell'aumento delle povertà e anche nella mortalità soprattutto infantile ovviamente il programma ha questo respiro perché è un programma che trae spunto da un approccio internazionale per Catania e per la nostra provincia sarà declinato tenuto conto delle caratteristiche anche delle priorità chiaramente la possiamo mantenerci sul generale andremo concretamente a innanzitutto a coordinarci sempre di più fra di noi innanzitutto come servizio sanitario e poi aumentando anche le alleanze con tutti quei promotori di salute con tutti i portatori di interessi che siano le organizzazioni sindacali di associazione di volontariato tutti quelli che in qualche maniera sono orientati verso la promozione del benessere delle persone quindi è un impegno che ci prendiamo tra l'altro volevo dire che questo nostro programma è stato accettato e recepito anche dalla regione siciliana in una delle parti proprio del piano di prevenzione regionale che sarà da qui a poco reso pubblico vi posso anticipare che ci sarà una parte proprio con il nostro contributo anche che riguarderà proprio la promozione della salute nei luoghi di lavoro c'è questa sigla che è VHP un acronimo che sarà ripreso e si svilupperà non solamente a Catania che sarà in qualche maniera l'ASP capofila ma anche nelle altre ASP un programma che non è opzionale ma riguarda i cosiddetti livelli essenziali di assistenza lo facciamo perché diventeranno queste proposte diritti e non cose opzionali e purtroppo la Sicilia appunto come ha detto lei è il quarto posto per obesità in compile noi siamo brevissimi a stare sul podio quando si tratta di dati negativi e altrettanto brevissimi a essere ultimi quando si tratta di dati positivi volevo chiudere e chiedendo ovviamente a Claudia Cardillo che tipo di consigli possiamo dare quindi a coloro che ci seguono che un po' sono vuol dire anche quello che voi consigliate quando si viene a visitare una fattoria sociale le fattorie sociali sono luogo di inclusione quindi invito tutti i telespettatori a diciamo vedere quelli che sono le aziende presenti nel territorio e visitarle perché un rapporto con la natura ovviamente facilita diverse cose una visita in fattoria sociale e sicuramente non migliorerà i problemi che ci sono ma permetterà a ciascuno di loro di passare una giornata sicuramente in serenità e con un po' di benessere in più tra l'altro le fattorie sociali sono un po' sparse in tutta la Sicilia giusto? si sono sparse in tutta la Sicilia quindi come diceva il dottore Cacciola nel momento in cui il programma UHP è stato recepito anche dalla regione Sicilia anche le altre ASP se vogliono posso inserire le fattorie sociali perché sono presenti in tutti i distretti della regione Sicilia quindi è possibile sperimentare quello che è stato fatto a Catania anche nelle varie ASP della Sicilia bene noi siamo davvero in chiusura dottore voleva aggiungere qualcosa o abbiamo detto tutto? no mi pare assolutamente completo per adesso diciamo il nostro messaggio ci ritroveremo perché faremo come ripeto cose molto concrete che hanno che non hanno bisogno di tante spiegazioni ma richiedono un coinvolgimento diretto dei cittadini e quindi come dire ritorneremo su questo su questo tema nelle prossime settimane e noi ci auguriamo anche per i prossimi anni bene io vi ringrazio tantissimo ringrazio dottore Casaventore Cacciola ringrazio ovviamente Claudio Cardillo di essere stati qua per conto ovviamente anche dell'ASP 3 di Catania ma anche ovviamente tutto il sistema che portate avanti lo so che forse è più semplice vedere un film a quest'ora o comunque negli orari in cui non andiamo in onda rispetto a sentire delle tematiche che magari per qualcuno possono sembrare pesante però vi posso assicurare che sono temi che sono utili fondamentali perché la terra è casa nostra la nostra salute dipende da noi e dobbiamo assolutamente salvaguardare sia il pianeta che la nostra vita e queste sono nozioni che tutti dobbiamo in qualche maniera acquisire e lo scopo di Medex News e soprattutto di Medical Extra in tv è quello di salvaguardare voi e la vostra salute quindi grazie ancora a voi grazie grazie per essere ospitati e sempre gentile e disponibile da parte nostra a continuare questa collaborazione e la continueremo ovviamente grazie a tutti e grazie ancora una volta di aver seguito Medex News Grazie a tutti